Il Comune di Pescara sta lavorando al nuovo piano della sosta che individua le strategie e le azioni per migliorare il sistema della sosta in città. Per l'elaborazione del piano stesso, il Comune chiede ai cittadini di compilare direttamente online un questionario per raccogliere opinioni e segnalazioni. Vogliamo acquisire dei dati che ci permetteranno di elaborare un piano della sosta più vicino alle esigenze della città perché sulla sosta Pescara gioca una partita molto importante, troppo importante e quindi è essenziale sentire anche il parere dei cittadini rispetto a degli interventi che saranno fatti. In più c'è la necessità di farlo perché le norme oggi prevedono l'ascolto dei cittadini e noi lo facciamo attraverso gli strumenti che oggi la tecnologia ci mette a disposizione e quindi ci sarà un sondaggio telematico che arriverà ai cittadini. Noi acquisiremo dei dati perché oggi la partita vera si gioca proprio sui dati che sono essenziali per capire gli spostamenti in città, l'utilizzo delle aree di sosta, l'utilizzo di mezzi alternativi alla macchina, tutte queste notizie che ci servono per elaborare un piano sempre più vicino alle esigenze della città. Sarà un sondaggio che potrà essere fatto da tutti i cittadini che vorranno inserirsi in una piattaforma che metteremo a disposizione. Oggi gli strumenti telematici ci permettono di arrivare dovunque a chiunque, viviamo in una democrazia digitale che è essenziale per fare in modo che tutti possano essere informati e tutti possano dare le loro risposte se vogliono farlo chiaramente. Sindaco, scusi, sempre parlando di traffico, il ministro Salvini commentando i dati del Sole 24 Ore sull'aumento delle multe, soprattutto degli autovelox, ha detto che i sindaci dovranno spiegare e motivare dove sistemarli e non dovranno essere omologati, non si potrà fare cassa con gli autovelox. Come commenta? A Pescara non ci sono oggi autovelox, noi li abbiamo soltanto messi all'inizio della consigliatura in via di sotto perché c'era un'esigenza richiesta da numerosi cittadini e il tavolo per la sicurezza in prefettura ha stabilito che si dovesse mettere quell'autovelox in via di sotto. E poi dopo sei mesi di sperimentazione l'abbiamo eliminato perché la situazione è tornata alla normalità. Quindi noi ci adegueremo alle norme, fermo restando che a Pescara gli autovelox non ci sono.